Iniziato con un pareggio a Ferrara il girone di ritorno, domenica il Bologna cerca, obiettivo dichiarato, di tornare al successo che manca dal 30 settembre. Ospitiamo il Frosinone alle 15, sta continuando la prevendita, da oggi ricominciano a Casteldebole, a porte aperte davanti a non tanti tifosi un po' scoraggiati dalle condizioni meteo. Ricominciano quindi gli allenamenti della squadra di Inzaghi, tutti a disposizione del mister a parte Zemaili che continua il suo allenamento a parte. Grazie